Risparmiatori vittime del salva banche sempre più esasperati per il tempo che passa, le parole spese dai politici, le indiscrezioni sui decreti che si sommano e non piacciono affatto. L'ultima di queste parla di rimborsi automatici per obbligazioni subordinate vendute prima dell'agosto del 2013 ma per chi aveva un reddito basso e una bassa percentuale piazzata in obbligazioni rispetto al portafoglio dei titoli in possesso. Chi le ha acquistate invece dopo l'agosto 2013, data in cui l'Italia ha recepito la direttiva europea del bail-in, andrà in automatico alla procedura dell'arbitrato. Questo non piace alle vittime del salva banche che da sempre chiedono indietro tutti i loro risparmi. A Tarezzo e nelle altre città l'associazione vittime del salva banche sta organizzando i pullman per il nuovo viaggio a Roma che si terrà a maggio non per una protesta ma per essere ricevuti da Papa Francesco dopo la conferma arrivata dal Vaticano. Intanto si avvicina la data di scadenza fissata dall'Unione Europea per il 30 aprile per la vendita di banche Truria, delle sue società controllate e delle altre tre banche coinvolte. La data non sarà sicuramente rispettata e l'Unione Europea concederà la proroga almeno secondo le dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan. Sulle quattro banche non ci dovrebbero essere problemi a procrastinare la scadenza per la vendita, ha detto Padoan. Il confronto con l'antitrust europeo è finito, l'Italia ha fornito tutta la documentazione richiesta e non si attende ostacoli a una proroga.